Ciao ragazzi, oggi vi farò un tutorial per vedere come si fanno i video di Gacha Live Allora, se non avete Gacha Live, installatelo Aspettiamo che si carichi CARICATI! Scusate per il mio tono aggressivo, ma sono molto agitante È il mio primo tutorial Allora Una volta fatto questo E installate, cioè create il vostro personaggio Questa sono io infatti Facciamo i vari personaggi Poi andate su studio Andate su studio Una volta creato il vostro personaggio andate su studio Personalizzate il vostro personaggio come volete Potete farlo triste, felice, allegro, arrabbiato, ecc Questa faccia direi che è molto allegro il personaggio Potete anche modellargli i capelli Potete fargli legati, come volete Io ad esempio faccio sempre questo tipo con qualcosa Non so, magari così O così Potete scegliere voi Il personaggio è la nostra, potete fare quello che volete Io vi faccio solo un esempio Potete fare il vostro avatar O un avatar di un cantante Scegliete voi Vabbè Vabbè Io con i codini, raga, al top Ok Poi andiamo su studio Mettete l'altro personaggio Mettetelo della stessa grandezza Schiacciate Hide E fate uno screenshot O se non sapete come si fa lo screenshot Potete fare una foto con proprio Mobizen Installate Mobizen E potete fare le foto Premete il pulsante della videocamera Perfetto Una volta fatto Una volta aver premuto il tasto della videocamera Potete animare come volete voi il personaggio Per farlo dovete cliccare un angolo a caso Andare su il personaggio E schiacciare Edit Non pensate ai miei Edit Siete carini ma non pensate ai miei Edit E personalizzate la bocca e gli occhi come volete La posizione e i capelli rimangono gli stessi Ma potete modificare il vostro personaggio Ad esempio potete chiudergli gli occhi Oppure potete farlo molto più sorridente Decidete voi come farlo Una volta fatto Schiacciate Hide E premete di nuovo sulla fotocamera Poi una volta aver animato tutto Uscite dalla Oppure tenete aperta l'app di Gacha Live Tenete aperta la vostra app Ah no vi consiglio di chiuderla E andate su CapCut E fate nuovo progetto Una volta fatto Ingrandite l'immagine Per fare l'effetto animato Io vi straconsiglio Di fare i tempi Molto più brevi Perfetto Perfetto Consiglio consigliate Per fare il personaggio che chiude e apre gli occhi Fate o fate l'immagine stessa due volte Oppure fate Cliccate sull'immagine E fate Copia Dove aspettate Dove c'è scritto Dove c'è scritto Potete premere questo pulsantino Che è Copia In modo da creare questo effetto Perfetto Così Perfetto Così E vi dovrebbe venire questo Poi una volta fatto Potete installare un'app Che si chiama Per installare la voce Oppure potete installare voi la voce Cliccate su Registra E dite più o meno Quello che volete dire al personaggio Si stranamente qua non si sente Potete alzare anche il vostro volume Non mettetelo su mille Che se no Ciaone a quello che sta guardando Bene Spero che questo tutorial vi è servito Lasciate un bel mi piace Se ne volete ancora altri E ciao Al prossimo video tutorial Scrizione ai happily